Un nuovo e avvincente capitolo, per usare un tono amaramente ironico, è pronto a scriversi nella battaglia legale dei professionisti sanitari Novax. Circa 1300 su 7000 vaccino scettici in Toscana, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici di laboratorio, che avevano presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro gli atti di accertamento dell'obbligo vaccinale inviati dall'ASL. Il Tar della Toscana ha accolto la richiesta degli stessi sanitari di rinunciare alla domanda cautelare, ossia alla sospensiva, e ha fissato al prossimo 2 febbraio la trattazione di merito del ricorso. Tradotto, giudizio rimandato di 5 mesi. E da qualcuno è stata ritenuta una ritirata, considerando che i primi provvedimenti di sospensione contro i ribelli sono già scattati e che il Tar ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese della fase cautelare pari a 1500 euro. Ma la decisione di rinunciare alla sospensiva è stata presa dai legali degli stessi professionisti del comparto sanitario contrario al trattamento in questione per due motivazioni ben precise. La prima, relativa alla volontà di spendere nel merito le novità emerse nel frattempo, ossia l'esistenza di cure alternative che testimoniano che il vaccino non è l'unica soluzione. Così hanno affermato gli stessi legali. La seconda, inerente le sospensioni che stanno procedendo a rilento e ciò non comporta l'urgenza di intervenire. Insomma nessuna sconfitta, almeno secondo i rappresentanti dei sanitari Novax. Nel frattempo però l'iter della regione e dell'ASL non si ferma e già nei prossimi giorni sono attesi nuovi provvedimenti di sospensione per gli stessi sanitari non vaccinati con l'allontanamento dal luogo di lavoro e la decurtazione dello stipendio. Di fatto solo una pronuncia di sospensiva avrebbe potuto stoppare questi procedimenti, ma come detto medici e infermieri che hanno presentato ricorso hanno rinunciato. Grazie a tutti.